Emergenza post-Covid, tra riprese poche e difficoltà tante. Dal comune solo briciole il duro attacco dell'ASCOM di Bassano, ma il vice-sindaco Roberto Marin tiene a fare alcune precisazioni. Abbiamo stanziato subito 750 mila euro per l'emergenza, per gli interventi straordinari. Abbiamo previsto interventi intanto per oltre 300 mila euro sulle imposte minori, occupazione al suolo pubblico, pubblicità e imposta di soggiorno. Stiamo studiando insieme anche con tutte le associazioni di categoria un intervento importante per la riduzione degli affitti attraverso la riduzione dell'Imu. Penso che la nostra amministrazione sta studiando interventi mirati che diano segni concreti a tutte le attività economiche. Non dimentichiamo anche che c'è un importante aspetto sociale, quindi è a cuore della nostra amministrazione anche i cittadini, le famiglie. Abbiamo dato aiuto per le reti di asilo per i mesi di marzo, aprile e maggio. Siamo intervenuti a favore e in aiuto delle associazioni sportive. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo anche per i centri sportivi. Quindi stiamo guardando a 360 gradi rispetto alle esigenze della città.